Parte dalla panchina il nuovo innesto Francesco Omele, grande ex della partita. Chieti Abbasso Girardi per la terza vittoria in tre trasferte ma non è così semplice. La prima frazione per il Chieti la squadra del Pescarese. Prosperi gioca un buon calcio nonostante un avvio di campionato non esaltante. Per quanto riguarda i punti conquistati a metà il più pericoloso del club giallo celeste. Qui viene fermato in posizione di fuorigioco prima di depositare alle spalle di Fusco. Tentativo anche di Alagia per la squadra molisana. Quindi la risposta del Chieti con Pietrantonio ed è un incontro che si accende quando Akamadu interviene su Guadalupi. Rimedia un giallo l'attaccante nero verde in un primo tempo sostanzialmente corretto. Quindi prima dell'intervallo la chance per il vasto Girardi con Guadalupi con la risposta efficace di Fusco. Ma nel secondo tempo è tutto un altro Chieti con le prove generali del gol che arriverà a stretto giro con il solito Pietrantonio. La testa di Fabrizi primo allarme per la difesa giallo celeste. Quindi esordio in campionato con il Chieti per Mele che prende il posto di Viscovic. Ed eccolo il sigillo del Chieti. Azione simile alla precedente. Il colpo di testa imperioso di Luca Fabrizi. Il vantaggio nero verde implacabile. L'attaccante nero verde tre gol nelle ultime tre partite per lui. È un momento magico per Fabrizi che festeggia con i tanti tifosi del Chieti arrivati in Molise. 1-0 del Chieti e 2-0 solo sfiorato con Rodia che nel frattempo aveva rilevato. A Cammadu inizia lo show di Davide di Stasio. Palla che colpisce anche la traversa ma risultato che resta in bilico. È vasto Girardi che trova il gol del pareggio grazie a Marco Mingiano. Nulla da fare per Fusco. Arriva dunque l'1-1 del club molisano. Ma il Chieti della ripresa è attratti da applausi con Verna superlativo ma con un vasto Girardi che può contare su di Stasio. Tentativo anche ad opera di guida sul fronte opposto. Rodia entra subito in partita il migliore con Verna nella fase centrale della ripresa. Ma è ancora di Stasio il protagonista assoluto dell'incontro. Sbarra ancora la strada. Quindi brutta tegola per il Chieti con Rodia costretto a lasciare il campo per infortunio. Deve lasciare spazio a Baldè. Ma il Chieti è arrembante nel finale. Prima con il contropiede orchestrato da Manfredo Pietrantonio che libera Verna. Ancora un superlativo di Stasio a negare il gol del nuovo vantaggio. Ma non è finita qui perché in pieno recupero si supera sul colpo di testa ravvicinato di Aglieu Balde. strepitoso di Stasio che evita il gol del 2-1 del Chieti ad ogni modo. Ottima la prestazione dei ragazzi di Lucarelli. Ma lo stadio di Tella deve accontentarsi di un pareggio. Basta girar di uno. Chieti uno. Allora mister abbiamo visto un primo tempo piuttosto equilibrato. Poi però siete uscite alla distanza. Alla fine il portiere vi ha negato una vittoria che sostanzialmente era meritata. Beh a livello di episodi sicuramente sì però in realtà la partita è stata equilibrata. Poi nella conta degli episodi noi sicuramente recriminiamo però anche la bravura del portiere perché non tanto sull'ultima occasione che è molto scenografica come tipo di parata però ne ha fatta un'altra su Verna su un tiro basso raso terra che quelle sono quelle parate importanti. Però alla fine prendiamo il punto e ci rammarichiamo che sul 1-0 potevamo secondo me provarci un po' meglio. Mister che risposte ha visto da parte della squadra quest'oggi? Diciamo una prova davvero positiva comunque soprattutto nel secondo tempo. Ma sì noi abbiamo questo tipo di mentalità. Mi è piaciuto molto il fatto che sull'uno pari non ci siamo comunque accontentati e ci abbiamo provato. In altre situazioni dopo il gol le squadre possono un po' avere paura di prendere la rimonta. In realtà noi abbiamo risposto anzi meglio sull'uno pari avendo avuto diverse occasioni come avete visto. potremmo essere un po' più precisi però oggi il portiere devo dire che almeno su quell'intervento è stato veramente bravo. E' uscito Rodi abbiamo visto per infortunio ecco possiamo sapere quali sono le sue condizioni. Beh domani tra 24-48 ore sapremo un pochettino di più però il ragazzo ha sentito subito che gli ha tirato l'adduttore quindi sicuramente prenderà un periodo di fermo ma questo non è un problema perché noi abbiamo una rosa che ci permette senza problemi di sostituire alcuni calciatori. A partire da mercoledì quando c'è l'impegno in Coppa Italia suggestivo contro la San Benedettese? Sì è chiaro che dovranno giocare gli altri titolari e quindi giocheremo con altri 11 titolari perché noi abbiamo comunque una squadra che ha tutti gli elementi che possono giocare poi dipende dalle scelte che io faccio settimana per settimana però faremo una grande prestazione perché è una partita suggestiva è chiaro che per noi l'importanza è il campionato però questa è una partita che noi vogliamo cercare di fare bene perché è la mentalità della squadra è di cercare di fare sempre bene. Allora Presidente possiamo fare un primo consuntivo di queste prime cinque giornate ritengo positiva per il Chieti? Sì sì un inizio positivo siamo partiti bene e quindi possiamo essere contenti del nostro percorso fino ad oggi dobbiamo cercare di fare meglio di migliorare negli errori che spesso commettiamo per fare diciamo un campionato all'altezza del blasone della storia del Chieti. Abbiamo visto anche quest'oggi un gran seguito da parte del tifo, il tifo caldo delle Chieti che vanno sostenuti praticamente dal primo all'ultimo minuto se vuole fare un commento anche su questo fattore che è determinante. Sì per noi è importantissimo, noi li ringraziamo perché sono veramente fantastici ci seguono in casa, in trasferta, sono sempre numerosi e sono veramente con la forza che ci danno per fare sempre meglio e per andare avanti. Per chiudere Presidente, l'obiettivo resta quello di una salvezza tranquilla oppure adesso la sticella si alza un po' alla luce di tutte queste prestazioni molto positive da parte del Chieti? L'obiettivo è quello di fare bene, noi l'abbiamo detto dall'inizio, il primo obiettivo è la salvezza raggiunta la salvezza poi se si può fare meglio siamo contenti e questo è ancora più importante è normale, l'obiettivo del Chieti è l'abbiamo detto all'inizio di fare bene. È una partita contro una squadra forte, una squadra forte che sta facendo un buonissimo campionato abbiamo fatto tante buone cose, qualcosa meno, però la squadra mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto per come l'ha affrontata, per come l'ha preparata e per come ha impattato contro una squadra forte, è difficile che ci giriamo intorno.